Si è tenuta domenica 16 aprile a Spoleto la 56esima Assemblea Regionale di Avis Umbria, nella ricorrenza del settantesimo anniversario della fondazione dell'Avis Comunale. Presenti tra gli altri Enrico Marconi, presidente regionale di Avis Umbria, Roberto Bastianelli presidente Avis Comunale, Spoleto la dottoressa Marta Micheli responsabile, Situs Lumbria 2 Andrea Sisti sindaco di Spoleto e per Avis Nazionale i consiglieri Francesco Bassini ed Egidio Conte. Dati incoraggianti sul fronte del numero complessivo di donazioni sono emersi nel corso dell'Assemblea, essendo queste attestatesi a 39.322 su base regionale nel 2023, con un aumento quindi del 2,93% rispetto alle donazioni del 2022, 38.202? Praticamente vicine a quelle del 2017, 39.519, con la provincia di Perugia che addirittura ha migliorato anche il dato del 2017. Il dato assume anche maggiore rilievo se si considera che tutte le Avis della provincia di Terni nel periodo fine luglio-metà-dicembre hanno risentito in maniera decisiva del divieto di donare sangue intero per coloro che fossero transitati per Roma, dove erano stati registrati casi positivi di denge. Grazie, sì, diciamo c'è stato un buon aumento di donazioni, questo è importante, siamo sempre però carenti di plasma, anche se nello scorso anno abbiamo aumentato di molto anche le donazioni di plasma, abbiamo raggiunto l'autosufficienza di sangue intero, stiamo dandoci da fare per il discorso invece del plasma. Molte sfide ci sono, intanto è la sfida di raggiungere questa benedetta autosufficienza di plasma e confidiamo in questo senso sulla regione, sulle aziende, speriamo che venga sbloccata presto la gara per l'acquisizione delle macchine per le aferesi e quindi per fare queste plasma aferesi anche nei punti di raccolta fissi periferici, penso a Pantalla, penso ad Assisi, penso a Castiglion del Lago, dove è possibile fare le donazioni, dove c'è un bel bacino di donatori, dove ci sono dei bei bacini di donatori e dove è possibile, è doveroso a mio avviso, attivare quanto prima la raccolta del plasma. L'altra sfida è ovviamente il ricambio generazionale. Noi abbiamo in questi ultimi due o tre anni una modifica del trend, cioè mentre prima erano in calo donatori e donazioni, adesso abbiamo invece assistito soprattutto negli ultimi due o tre anni a un recupero, a un aumento delle donazioni e a un recupero anche a un aumento dei donatori. E questo è molto importante e significativo perché poi comunque questa è in controtendenza rispetto a quello che è l'andamento della popolazione in Umbri. i residenti calano in continuazione, dal 2015-2016 in poi abbiamo sempre un calo dei residenti e soprattutto c'è un invecchiamento della popolazione, quindi diminuiscono sostanzialmente i giovani. Noi puntiamo molto invece su delle politiche anche di promozione per raggiungere soprattutto le fasce di età 18-35 anni senza dimenticarci dei quarantenni, cinquantenni che ancora sono grandi donatori e possono fare molto. Un'altra nota positiva è che finalmente c'è il piano regionale Sangue e Plasma, quindi anche questo è importante in un'ottica di ottimizzazione e di efficienza dell'Avis. Sì, finalmente lo scorso anno era da tanto tempo che chiedevamo il rinnovo del centro regionale Sangue che è l'organismo che a livello regionale deve coordinare le politiche trasfusionali e quindi dare anche gli indirizzi importanti per le varie strutture, per le varie aziende e questo organismo è stato rinnovato. Noi ne facciamo parte ovviamente come Avis e come espressione del mondo del volontariato. L'altra cosa importante è che è stato rinnovato anche il piano Sangue e Plasma per la regione Umbria. Gli ambiettivi sono anche qui ambiziosi, c'è un problema di riorganizzazione dei laboratori di lavorazione del sangue, quindi speriamo che vengano ottimizzati i tempi di lavorazione, risparmio sul personale, maggior personale dedicato alla raccolta, speriamo che venga risolto il problema della carenza ormai cronica di personale sanitario, medico ma anche infermieristico e speriamo che vengano attivati dei percorsi migliori per favorire ancora di più l'ingresso di nuovi donatori nella donazione e quindi pratiche per le donità più veloci e percorsi anche privilegiati per favorire ancora meglio l'accesso di nuovi donatori.